Bene, abbiamo appena fatto la prima prova, un volo molto semplice, un decollo in automatico, un piccolo cerchio, abbiamo visto che in effetti il Karma vola bene, è stabile, oggi non è una giornata lontosa, tuttavia rimane bene fermo, bene stabile. La stabilizzazione del gimbal mi sembra buona, su tutti gli assi, non è un risultato risultato. Stiamo contestualmente registrando perché vogliamo vedere anche la GoPro come si comporta con appunto i distorsi vibrazione. Quindi interrompiamo un attimo la prima registrazione, sempre schiacciando il bottoncino qua di seguito e proviamo a vedere come si comporta in volo facendo un tragitto leggermente più lungo. ok, lo mettiamo qua, siamo più o meno pronti, schiacciamo il bottone di decodino automatico, 3, 2, 1, si armano i motori e volziamo. Quanta paura nel senso che si alza, accelera immediatamente, si porta circa un metro. È una procedura utilizzata da molti drone in questa nette. Vediamo un po' come si comporta e come vola, andando un po' lontano. Direi che per il momento sembra volare bene, mi interessa anche confrontare la qualità delle immagini registrate dalla GoPro, abbiamo una GoPro 6 qui, sempre gentilmente concesseci dal team di gocamera.it che dopo lunga attesa, come sapete il karma ha avuto qualche problema in fase iniziale di presentazione al mercato, aveva qualche piccolo difetto, tipo cadeva, non lo diciamo in giro, lo diciamo piano. Ora, per quel poco che mi sembra di cadere, di rivedere, se non ci farà delle sorprese improvvise, sembra comportarsi bene, senza infania. Vediamo un pochino, lasciando i comandi, rallenta ma non ha quell'effetto frenata come tanti droni provati recentemente. Vedete? Arriva, rilascio improvvisamente, ma sulla camera non si nota assolutamente questo tipo di beccheggio. Anzi, direi che il gimbal funziona bene. Adesso facciamo proprio anche una prova, una specie di selfie, no? Che disegniamo. Ovviamente sarà sparito, ha fatto proprio una bella ripresa, stile droni. Di altre rinomate case. Ah che bella bene. Rituriamo un atterraggio, vediamo un atterraggio manuale, come funziona. Se si riesce senza schiacciare il bocchino, quindi scegliamo, che scegliamo, che scegliamo il gatto, lo portiamo giù, e ci scegliamo la retura della catica e non andare, quindi portiamo giù, che non scegliamo, avere il ritrozzo del gatto, a fare in maniera più che decente durante il gatto. Scegliamo, attenzione.